Allora, allora, state al governo, eh? Le aspettative sono tante. Ma guarda, se vuoi qualche cosa, qualche commento sul nazionale, io ti posso dire ben poco perché noi già abitiamo in provincia. Beh, se sente, io leggo che ci sono un po' di disagio all'interno del movimento. Certo, abbiamo comunque i collegamenti con i nostri sovraccomunali e riferito al governo chiaramente è un sogno, nel senso che sono anni, tu sai Angelo, noi siamo partiti con gli infopoint per strada, i banchetti insieme ai cittadini, penso che più in basso di noi non è mai partito nessuno e in realtà oggi avere il nostro Luigi Di Maio sia come ministro e vicepresidente del Consiglio è un orgoglio per tutti quelli del Movimento 5 Stelle. Poi le chiacchiere se ne fanno tante, adesso l'ultima che gira in questi giorni è che Salvini sta oscurando la figura. Salvini semplicemente perché ha sul discorso dell'immigrazione ha fatto questi annunci un po' più... Già l'aveva fatto Minniti? L'aveva già fatti, noi invece pensiamo che l'azione del nostro ministro Luigi Di Maio, innanzitutto il fatto che ha unito i due ministeri, troviamo sia una cosa unica che porterà sicuramente dei grossi vantaggi perché spesso i problemi fra il ministro del lavoro sono uniti e quindi avere un ministro che gestisce tutti e due i ministeri, tra l'altro Roma poi molto vicini, ci sembra una cosa molto buona. Il Presidente del Consiglio che chiese ne dica, credo che pochi italiani possono parlare male di Conte come rappresentante nostro al governo, adesso vediamo come funziona in futuro e aspettiamo come tutti gli italiani gli esiti anche noi di questo governo. Io dico vediamo i risultati, però un passo avanti in positivo io già l'ho notato perché ho sempre detto che questo è un partito movimento, naif, c'è un regolamento un po' strano. Artistico come dicevi? Io una volta chiesi a Frescati, a Emanuele Tessino, gli dico ma se io sono una persona specchiata, ti porto una lista specchiata dei 16 cittadini che gli hai fatto un'analisi, ma perché non possiamo fare l'apparente, perché non si può, ma allora perdi sempre, sta maggioranza assoluta non la prendi mai. Ora sto fatto che di fronte alla necessità avete messo le mani nella gacca e quindi avete detto vabbè bisogna fare una coalizione, lo chiamiamo il contratto, coalizione, come ti pare? E' già un passo avanti, è certo, è certo. Che comunque ha portato i suoi benefici, poi ci sono persone, ripeto ognuno ha la sua idea politica, però comunque si è fatto un governo e alla fine non si può parlare male di questo contratto. In realtà sul territorio comunale… I contratti sono tutti belli, sono tutti belli, tutti quanti, ecco, ecco. La stà sulle comunali, quando noi abbiamo le elezioni abbiamo un grosso problema, anche le ultime che ci hanno detto il crollo del movimento, non c'è stato un vero crollo, noi abbiamo fatto un'analisi, comunque a Velletri Paolo Trenta ha preso il tripolo dei voti che aveva preso cinque anni prima, quindi a quintuplicati i voti non c'è stato questo crollo che si dice, però in realtà io sono andato a Velletri per esempio a trovare Paolo Trenta, ho visto che c'erano liste composte da sei, sette liste, voi sapete che in comuni poi come Velletri oltre 60 mila abitanti ci sono, mi sembra 24 consiglieri, portare 24 consiglieri e sei liste da 24 consiglieri, è una differenza enorme. E figurine, però io sento che c'è un po' di malessere, pure ci dovrebbe essere una fronda a Roma, in Senato o alla Camera, una cinquantina, perché poi aspetta, poi c'è l'altra parte, ci sono 15 mila Euro puliti che ti metti tutti in tasca, insomma potrebbe essere una chimera, una sirena che canta bene. L'impressione mia personale sul movimento nazionale è che c'è con il passare del tempo, perché adesso noi dal 2013 a oggi ci sono stati dei deputati, dei senatori riconfermati, altri nuovi che sono entrati, come il nostro caro amico Emanuele che fa parte dei nuovi, è vero che all'interno non è che ci sono delle fazioni, ci sono alcune persone del movimento che sono rimaste legate… Ha una storia vecchia. Ha una storia vecchia. E chi ce l'ha di sinistra, chi ce l'ha di destra… È riportata al movimento di oggi, è riportata con comunque i cambiamenti, perché il movimento da quando siamo entrati i primi anni ad oggi è cambiato, siamo passati allo statuto, oggi abbiamo un leader politico, prima non c'era, e quindi veniamo dalla storia di Grillo e Casaleggio, diciamo prima versione, ad oggi chiamiamola 2.0 come volete voi… Siete in cammino, via, siete in cammino. Siamo in cammino e spesso ci ritroviamo con dei problemi che hanno anche i partiti che conosciamo, questo è un po' il neo della discordia, diciamo così che all'interno ci sono delle persone legate al passato e altre che vedono comunque il discorso di andare avanti e di accettare le novità. Ora posso fare una domanda cattiva? Cattiva. Ora la faccio.